Noi saliamo tra voi, voi chi siete, dove veniate? Che ore sono? Che ore sono? Quando si mangia? Bisogna mangiare, sono tanti misteri dell'universo, voi dite una domanda e io tengo risposte, io sono un alieno, ha ha ha! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!